Buongiorno Nadia, veniamo da Mantua, è il secondo anno che veniamo qui, siamo venuti per la prima volta l'anno scorso, era quasi un anno che cercavamo di avere un bambino, sono rimasta incinta qui e quindi quest'anno abbiamo pensato di tornarci con Alessandro e penso che fino a che Alessandro ha 18 anni verremo qui, ci troviamo benissimo, si mangia benissimo, sono a casa praticamente, per il bambino c'è tutto, le camere sono pulitissime, davvero pulitissime, tutte le persone sono gentilissime, simpaticissime, ci vogliono tutti bene, è meglio che stare a casa sinceramente, avevo dimenticato un paio di cose del bambino a casa perché non ci stavano in macchina, me le hanno subito procurate, tempo un quarto d'ora che eravamo arrivati l'altro giorno, noi ci troviamo bene, Alessandro si diverte tanto, lo consigliamo a tutti per sia le coppie giovani, perché comunque c'è divertimento, ci sono tutte le serate organizzate, sia per le persone con bambini perché è proprio l'ideale, si sta proprio davvero meglio che a casa propria.